è arrivato, è arrivato tutto sè? sì, è quanto sè è che ci voglio fare in più no 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 Magari stronzio come me, chissà, adesso non si importa, adesso non esisti, adesso che, adesso che, tu non esisti. E allora sai creare i punti, sai che sta a rire le strade, e non mi sono a casa, non mi sono a animare. Tante volte alle stazioni, ora che si fanno uguali tutti i posti per andare. E allora spendi questo cielo, svolta anche le stelle, le scelte eccessive, toglie di voi, e lascia solo questo inverno. Si diceva di guardarsi indietro, il passato è già passato, e gli erano gli sti umani, ma le tue umani sono loro lì, che ho connesso e non mi pento. Perché preferisco piangere, che non piangere, stavolta non è colpa mia. Perché tu, tu non esisti, altrimenti sareste qui con me adesso, a provarci in modo, a scavare sui sogni, con le mani, per trovare una macchina, solitanto. E trovi senso a questa vita, incassinata e fuori moda, che avrei dovuto non pagare mai incontro, e magari richiede di un svolto occhio. Invece tu ci trovi, invece tu non esisti, adesso che, adesso che, tu non esisti. E allora fai trovare i monti, fai sparire strade, rimani sopra lontana, fuori da ogni mare, e chiudi tutte le finestre, portai dentro, è più importante che partare fuori. E allora svegli questo cielo, smonta pure le stelle, le musiche sottofondo, non di pure poese, e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna, tutto torna dove vado, c'è chi fa il giro del mondo, per dimenticare chi è stato, e poi ci sono due, due che si sono visti, che sembra già passato in sé, e adesso, tu non esisti. Tu non esisti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con successo di 1994, di Giorgio Conti che aveva dedicato a Falcone e Borsellino e i uomini della scuola e proprio in quanto riguarda tutti quegli uomini coraggiosi che ho salutato anche prima, che ogni giorno rischiano una vita per noi e di poco riparano i famosi. Beh sì, è un marco arrivato, ho provato a rifarlo perché, innanzitutto, un grande ricordo a Giorgio, a quello che è che mi ha mai spiegato perché gli è paura, hanno paura di rimanere, ma non c'è un problema di rispondere a cui mi vediamo che gli stessi, e qui mi ha mai spiegato anche questo potere, perché mi ringrazierà il potere di poter, in quanto è liberato, assorbire il prolaggio di chi. di chi cerca di noi, sperando che il coraggio di tutti i lavori che lavorano, le forze dell'ordine e la sicurezza, possano arrivare a noi per farci fare con il nostro personaggio. La canzone è Signor Delente nella canzone di Marco Asini. Grazie. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, con sta vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse c'entano in duecento, è un attimo che fa, e forse di un attimo appena sarebbe come tutti i vestiti di vento a inseguirci nel sole. Tutti aggrappati a un filo e non sappiamo dove, 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 dove. Niente si tratta di mente che siamo usciti dalla centrale, ed in costante contatto rani abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41, presso la casa cantoniera, nascosto bene nostra alto, che si credesse che non c'era, e abbiamo andato l'altoverso, e fatto le tutte senza pietà, a chi passava sopra i cinquanta, forse le due cinquanta d'età, e preso uno senza patente, però non è stata patente. Un vecchio Signor Delente faceva un caldo che si bruciava, dal provinciale sembrava una forza, c'era l'asfalto che tremolava e che spiaviva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbia assalto tutto il pallaccio di quei ragazzi morti e ammazzati, c'era un l'altoverso di un straccio, c'era lì a terra, e non me ne sono campato, a pezzi come se non si può, che se non serve per cose buone, può diventare lo sinferno, e per l'altoverso non è sta niente. Un vecchio Signor Delente faceva un piccolo, ma i figli e che tutte le nuove ci vanno tre, in due stagioni e quattro sono felice, da un fuori sono spazio e me, che si hanno fatti sotto la legge, che succede questo male, se non ci vanno faccia, ma troverai conto un piccolo, a me che ci hanno fatto un piccolo, ma che braverà il medicinali, poi uno può fare due tagliare un'alto come a voce è il saggiare. ma ti diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura e questo è quello che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso e scusi tanto se non è niente, non è tanto, non è tanto, non è tanto Minkia si tratterendo, per cui si pensa che c'ho vent'anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce all'intenzione di panni magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente, Minkia simultemente Marco Masini, grazie Marco che sei stato con te grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te grazie a te, grazie a te, per te, ricordo ancora una volta questo fulano e grazie di questo 4-5-5-1-5, ci vorremmo di 4-5-5-1-5, vabbè, evito, 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 grazie Marco Masini grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te